Alessandro cosa ti sta spingendo oggi a chiederci di metterti nel primo treno per Piacenza e andare via? La stanchezza e la disperazione di non essere stato in grado di farcela da solo, questo è il mio primo punto, la stanchezza di avere davanti un demonio che si chiama, non droga ma eroina, che è molto più grande della parola droga e la solitudine ormai di essere rimasto solo sopra il marciapiede e di non riuscire più a comunicare con chi avevo portato sempre con me nel mio cuore. La mia telefonata a voi è datata da una mancanza di soldi primaria e tra parentesi dalla mancanza di non fare brutte cose per potermi mettere sul treno e allontanarmi dalla mia città nativa. Tu gli ultimi 5 grammi te li sei fatti oggi e mi hai detto se io aspetto domenica quando avrò un po' di soldi, andrò a prendermi sempre 5 grammi, 5 grammi. È un circuito che non comandi tu, non comando io ma comanda l'astinenza, la mattina una volta che sei entrato in quel giro è l'astinenza che ti chiama e se anche non hai i soldi in quel momento troverai il modo per trovare quei soldi e poter andare a prendere quello che serve per poter andare avanti perché chi non sa l'eroina ha una dipendenza molto fisica e questo ti porta a fare qualunque cosa per poter, chi la fuma, io la fumo e quindi per fumarla, non ho mai usato aghi queste cose ma ho conosciuto chi ha vinto sulla mia persona, sul mio corpo e su tutto. Diciamolo però, drogarsi, farsi di eroina, che lo si faccia nelle vene, che lo si fumi, è la stessa cosa perché ti porta alla nullità, ti porta a diventare uno straccio, come io tra parentesi oggi mi sento uno straccio perché... Tu mi hai detto una cosa al telefono che mi ha portato immediatamente ad andare a farti il biglietto, ho paura di morire. Ho paura di morire, ultimamente non ti nascondo, tutti i giorni io penso a questa mia brutta fine perché mentre ti senti un leone la mattina, al momento che hai usato quella benedetta sostanza, arriva il nero, arriva il buio totale. Tu sei una persona molto intelligente, non avevi problemi economici, te la sei sempre cavata, hai sempre trovato, perché una persona come te finisce in questa merda sapendo che poi si arriva a questo. 2017, 7 luglio del 2017, ho perso di mano la mia famiglia e le mie prime due figlie, involontariamente, non giustamente, anche perché lavoravo notte e giorno per quelle bambine, non avevo problemi di droga, tranne che mi facevo qualche canna giornaliera, ma per me la scisce forse è un rassativo, ma non è una droga e sono stato tradito da una donna araba, che è la madre delle mie figlie, dopodiché c'è stato un declino nella mia vita totale, dove in quel momento però sono stato capace sempre di riprendere in mano la mia vita, sono andato in Trentino, dove ho lavorato per quasi tre anni come metri di sala, perché la mia mansione è in metri di sala, parlo tre lingue, e sono stato capace di riprendere in mano tutta, di prendere il rapporto in mano con la mia famiglia, dopodiché è successo che ho conosciuto questa sostanza per scherzo, dallo scherzo è diventato un punto fermo giornaliero. E hai perso tutto. E ho perso tutto. Ho sempre pensato che ero sempre più forte di questa sostanza, ma poi giorno per giorno ho perso prima di tutto il lavoro, poi ho perso la casa, poi ho perso la camera affittata, poi ho perso la fiducia delle persone, che è la cosa molto importante che ci fa andare avanti molte volte, perché avere la fiducia di qualcuno molte volte significa raggiungere gli obiettivi. Tu lo sai che noi proprio per questo motivo, noi ci conosciamo da un po' di tempo, non avevi mai chiesto il nostro intervento, e proprio perché sappiamo a che cosa ti porta l'eroina, noi ti abbiamo chiesto il numero di telefono della comunità per sapere se effettivamente tu saresti andato in comunità. Io penso di essere stato onesto e diretto a girarvi il numero di Sermi del Rui, penso che tu l'avrai constatato. Assolutamente, ci ha detto che ti sta aspettando e quindi ti aspetta a Piacenza per poter poi portarti in comunità. Ho il rammarico grande per le persone, perché io nella mia vita sono stato uno che ha dato sempre tutto a tutti quanti, ricevendo sempre ben poco, e oggi invece mi ritrovo a raccogliere il niente e ritrovarmi in questa situazione che spero di riuscire a... Ecco, io ti faccio questa domanda, io conosco un po' la tua vita, so che sei stato in comunità, non sei tornato da tantissimo tempo qui, da pochissimo tempo... Ma è stato questo pochissimo per ridormi peggio di prima. Ma cosa è stato a farti di piombare la merda? Il fatto che sei tornato in questi posti, che hai sempre visto queste persone, o la tua debolezza, il fatto che non eri pronto? No, avevo puntato tutto sull'amore di qualcuno che avevo vicino, solo che questo amore ormai non posso dire che è terminato, da parte mia forse no, anzi forse è ancora immenso, però non è corrisposto, quindi dopodiché sono subito rientrato in questo giro maledetto che mi ha portato, lo dico perché forse prima che partivo in comunità non ero in queste condizioni, mi ha portato all'autodistruzione mentale, sono quasi 30 giorni che non mi faccio una doccia, quindi... Una cosa che non era mai successa... Nella mia vita mai. Mai, mai. Tu piangi, sei disperato, noi ti consegniamo il biglietto, questo è, speriamo sia, è di sola andata, è di sola andata, perché noi speriamo che veramente... Il ritorno potrebbe essere solo per ritrovare i miei figli, ma per ritrovare qualche persona o no, ti dico... Sì, ma deve essere solo quando tu sei perfettamente recuperato. Ma ti posso dire che può darsi anche che non mi rivedrai più. Se è perché tu stai meglio, io vorrei non vederti più. Se è perché tu stai meglio, vorrei davvero... No, può darsi che non mi rivedrai più, perché questo è stato il posto dove tutti mi hanno tolto tu e quindi anche ne... stando bene può darsi che non penserei mai di ritornare qua. In bocca al lupo. Io ti ringrazio per il gesto che avete fatto nei miei confronti, anche se... Io vorrei che questa... La vergoglia è estrema. Lo so, per questo abbiamo accettato di fartela in questa maniera l'intervista, io vorrei che questa tua storia fosse di insegnamento, perché evidentemente si può volere di andare via, si può volere di cambiare, la determinazione... Sta tutto nella testa. Io quando ero arrivato in comunità il 27 di dicembre, dopo una settimana, lo posso gridare, ero diventato di nuovo forte. Qualcuno non ci credeva, ma io avevo mille progetti. sapevo anche che se ci stava qualche tradimento, perché sono una persona molto sensibile, sarei caduto immediatamente. E così è stato. E perché non si è rimasto? Perché non hai continuato quel percorso? Anche perché non è un percorso che in 40 giorni... È un percorso che deve durare almeno 4, 5, 6 mesi e poi... Ed è poco, eh? Ed è poco, però sta sempre alla forza fisica e mentale, perché questa cosa è molto mentale, sì, terapeutica fino a un certo punto, ma sta tutto nella nostra testa dire esco da questo mondo, rimango in questo mondo. Io ti dico che ero partito per uscirne, ne ero sicuro, ne ero certo, ma qualcosa non è funzionato, però ti dico che non è successo, non è partito da me. Ecco perché forse oggi sono rammaricato, deluso e con la speranza di potercela fare, perché anche stasera, dico sempre con la speranza, perché solo Dio sa cosa potrà succedere domani, fra un mese, fra due mesi, quindi non mi ritengo fuori dal pericolo. Anzi, in questo momento forse sei proprio più vulnerabile che mai. Bravissimo. Questo è il biglietto, Ale, facci sapere quando arrivi, eh? Questo sicuramente... Facci sapere, poi non so, è una comunità che ti priva del telefonino? No, no, no. E allora ogni tanto facci sapere che stai bene. Se non tra me, tramite se... In qualche maniera, dà c'è notizia. Sicuramente, io vi ringrazio per la tempestività che avete usato nei miei confronti, quindi sono in debito in questo momento. Non devi essere, devi pensare a te stesso e pensa veramente di farcela, eh? Ti ringrazio ancora, Antone. Ciao. Ciao.